Quando mi sono insediato nell'assessorato ho trovato un po' questo progetto fermo perché c'è un problema fondamentale che è quello del declassamento del livello di rischio. Per realizzare l'ascensore bisogna declassare del rischio la zona. Stiamo procedendo a tappe forzate con un istruttore presso l'assessore del territorio ambiente affinché si possa più presto avere il declassamento e quindi procedere con i lavori. Ritengo che i colleghi del territorio ambiente nell'arco di un mese o un mese e mezzo completeranno l'ITER per cui potremmo poi riprendere i lavori in maniera estremamente veloce e quindi completarlo il più breve tempo possibile.